La prima che abbiamo fatto così di mani fa, per il periodo del 20. L'avvento, un tempo di attesa, un tempo forte dove la speranza diventa con credenza. Il Redentore è alle porte, alle porte del nostro cuore. Il caos, la corsa dei nostri giorni, spesso ci fa spandare e ci porta fuori strano. Ci isolano, udito dalla vera voce che nasce dal silenzio, ma Gesù verrà e contenerà a russare la porta del nostro cuore. La nostra fruttezza si trasformerà in caldo e fuori. E' in questa atmosfera che ci prepariamo da scopo di una musica che diventa incenso e che sale fino al cielo e innalza la nostra mano. Il primo brano è un preludio dal celeberro, il nome di Sperude, e siamo nella Roberta del 1600. Uno è intreso le sestine che sembrano venti impetuosi, il vento del nord. Infatti questo brano è soprannominato dai baltici, bruliano, ossia vento e neve, gelati e attanagliano la vita. Potremmo anche imperdurgarlo, anche come vento dello Spirito, dello Spirito Santo che soffia e spazza con il suo fuoco ogni dubbio, ogni incertezza. Un'entrata in stile fantastica, di Jephi Buxbiole, preludio inzogno di Barberale. Un'entrata in stile Un'entrata in stile Un'entrata in stile Seguiamo con un corale sangue dello stesso compositore tedesco di Eti di Bustri. Questo corale è la versione luterana dell'inno androsiano, che è di Redent d'Orgenzia. Il Signore sta penetrando in questo mondo e, contemporaneamente alla melodia ornata del corale, si sviluppa l'amonia sospirante con un pedale che richiama i passi di Gesù, che cammina, che cammina verso le note. Non come per Biden, Biden, di Bustri. Grazie. 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 Grazie.